La gente mi va, vitamina della che si fa Una che solle pure non sono stoni E' una serie che sta con un toni E mi cazzo non voglio i marconi Se me la vuoi tomano con i toni Non so di te però se sono qui Dopo che però è l'antività La serie risponde che è fritto E' uscita dell'ossi fritto Perché anche a me non sono fatti Però che non è stato show Non dobbiamo in una ombra del suo E' anche la maffera che c'è che rispondi È un giorno che77 e dia Perché è un goro che c'è che risponde zuviene E' un gomo che c'è che pensare Che ryclore sono least Qu' Grade Schmantolo order Ghiacchia Carmi non voglio le sait Per pullare Potremmo Schmantolo Buongiorno che non toglie e non bisogna noi perché non alguém vora trodata e volevo nervi ma è con della diretta arrivo ma è nhiều informo che con voi che partiva che ne vedo non funzionante sp Trip Lonely facebook scrivi suonare 서울 chie founders Un po' del tempo, pensavo che eras tipo un bit, ma si parte da un'altra macchina, non lo faccio non essere rispi, mi chiedava sopra la respir, non me ne voglio l'ho confinito, ma tutto bella l'altra! E' un'altra cosa, e' un'altra cosa. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti